21 marzo, giornata mondiale per la sindrome di Down e noi saremo a Pescara con un grande abbraccio. Un grande abbraccio è uno spettacolo comico, travolgente, avvolgente, poetico, straordinario, dove ci si diverte a bestia ma dove si pensa tanto a cose belle. È uno spettacolo dove è più facile essere felici perché è uno spettacolo che ti abbraccia, ti avvolge. L'abbraccio è il gesto del perdono, dell'accoglienza, della misericordia. Chi ha l'opportunità di lavorare, vivere o condividere emozioni, emotività con ragazzi Down sa quanto ci tengano queste persone all'abbraccio, alla fisicità, al contatto. E anche ora che state godendo questo video su social network, in una realtà virtuale, pensate a quanto è importante un abbraccio. Io credo che questo spettacolo abbia reso più ricco me ma renderà più ricco anche chi lo vedrà. E quindi visto che il teatro può essere anche terapia, io mi verrò a curare o a guarire o a migliorare volentieri a pescare il 21 marzo al Teatro Massimo e vi aspetto tutti quanti perché sarà veramente una grande occasione di bellezza da condividere. Un grande abbraccio, vi aspetto tantissimo. Ciao! Ciao!